La mobilitazione nazionale delle principali città italiane contro le aperture selvagge della grande distribuzione. L'iniziativa di boicottaggio si è svolta anche in Abruzzo con un volantinaggio davanti a un centro commerciale di San Giovanni Tattino. La nuova formazione di Sinistra Potere al Popolo ha scelto il giorno di Santo Stefano per esprimere solidarietà. Quanti sono costretti a lavorare la domenica nei giorni festivi con lo slogan lavoro per vivere, non vivo per il lavoro. La battaglia si salda con quella della difesa dei piccoli negozi penalizzati dalla liberalizzazione e dalla grande distribuzione. In Abruzzo, ad esempio, il mille prologo è approvato nei giorni scorsi dalla Commissione Bilancio del Consiglio regionale, ha recepito l'emendamento del Movimento 5 Stelle che vieta l'apertura di nuovi centri commerciali fino al 2021. Grazie a tutti.